Ciao a tutti che ciotti e benvenuti in questo nuovissimo episodio Siamo nel trentesimo episodio di già E oggi andiamo a creare il circuito Mannaggia però eh Sto carognoso Mori mori Porco Mori Mori Grazie Da prezzo Andiamo a creare il circuito insomma Il macchinario che vi ho Già anticipato nello scorso episodio Ricapitoliamo velocemente Per chi magari ieri non ha visto l'episodio Vogliamo creare una fornace Qua ho già installato un pneumatic servo Quindi andiamo a mettere qua una fornace con la redstone In cui basterà tipo mettere un altro cavo qui Quindi sarà sempre alimentata E prendiamo tutte le patate e le portiamo qui Anzi no non tutte le patate Qua c'è una parte delle patate Quindi Mi sa che dobbiamo giocare con Con i colori delle pipe Prima cosa facciamo questa Questa fornace Pocco cane Copper machine frame Insomma il solito sono 4 di questi Uno di questi Vetro già ce l'ho Perfetto Due di questi E se non sbaglio Sopra cosa ho bisogno Un pezzo di resto Quindi sono uno di questi Due di questi E uno di questi Ok Ora facciamoci il Reception coil Perché non pioggia nemmeno più Non si stiamo a fotissega Ecco qua Facciamo anche questi Mi sa che ho sbagliato la ricetta Come solito Ma lasciamo stare Machine frame Copper ce l'ho Resto un ce l'ho Mi servono solamente i due bricks Solo non si vedono i due bricks Ok E i bricks li si fa con Dove sta Dove sta So che ce l'ho la clay Eccola qua Bisogno di Quattro quanto me ne danno Uno Quindi ho bisogno di otto Ok Devo vedere se c'è un modo più semplice Per creare la clay Slug Dirt water bucket Come si produce lo slug Con il ferro Sand Pulverizer Ferro Non c'è uno più veloce Rich slug Insomma Induction smelta è bisognosa Ho capito vai Metodi ce ne sono Lo slug Della fructurization Vabbè Quello Basta Nient'altro Anche del comb Giustamente Giustamente Gli apetti fanno tutto Ok E Mettiamo già le prime cose Questo va qua Questo va qua Questo va qua Questo va qua Mancano solamente Due brick Sette E O Otto Facciamo queste due cosette I due mattoncini E quelli qua E li mettiamo qui Ecco qua Fluidact Mi ricordavo di averlo Eccolo qua Quando il Suria si ricorda Suria si ricorda Ma è vero Ma stiamo Lasciamo stare Allora Questo lo mettiamo qua Mettiamo la fornace In questa posizione Così Siamo già posto con l'input E l'output Allora qua vogliamo Stack size Va bene anche uno Madonna che bisogna sempre fare la mano qua Do pare assurde Vai Dai che lo so Tranquillo Oh mamma mia Dai Ecco qua Stack size 1 Allora Facciamo Di sicuro È la patata cruda Che voglio qua Però non la voglio tutta La Quindi dobbiamo giocare un pochino Con i colori Qui è una patata cruda E intanto la mettiamo Che vogliamo solo qui Intanto Ce la faccio con solo un item duct No Che palle E vabbè Poi vediamo Aspetta Fammi diventare Un po' di pistrello Che sono più piccolino Mi trovo meglio Ok Allora Crescent hammer Allora direi Che vogliamo Aspetta Fammi attivare questo Dance Vacuum Ah qual'era No vacuum È tipo Vuol dire Spirapolo Vuol dire che va tutto là Facciamo dance Dovrebbe funzionare Proviamo a prendere uno stack di queste Sessantatré E proviamo a metterle Lì Alla cesta E vediamo se arrivano Tutte e sessantatré Lì O siamo tutti e sessantatré Là Partito immediatamente Qua Mi siamo perso dal legno Cos'è pieno Per caso la fornace è piena Cazzo se la fornace è piena Oh guarda Tutto il buffer è pieno Qua l'energia è piena E per quello Bisogna di più Redstone energy Così Dato che ora Abbiamo tutti i macchinari Sarebbe in realtà Anche abbastanza facile Cercare più il redstone energy Così Energy come si chiama La sella Magari ora ne facciamo un altro Perché l'ora Perché sei scemo Che ti droghi No Per arrivare sono arrivate qua E quindi va bene E solo una parte è arrivata qua Però perché l'ora Abber scusa Dammi una mano vuota Ok White list Ok Può passare solo la potato Deve funzionare così no Ah cazzo Ecco Così è attivato anche Così debba funzionare Riproviamo Giusto con uno stack Che altrimenti poi qua Ci si impalla tutto Non veniamo più patate No lascia stare Ok Uno stack Vola qua dentro Ok Non vorrei fosse arrivati tutti qua Ora Solo due Eh ma qua non arriva il resto No mi sa che stavano tutte qua sai Adesso io faccio così Uscite Sbagliato Sbagliato Dove cazzo l'ho messo Uscite Dove è Quale non c'è Oddio dove me l'ha tirato Che cazzo C'è acqua qua Se levo No Mi è scomparso una pipe Tutto drogato Comunque si me le passa tutte E non è quello che voglio Sto caro Ragioso Vabbè qua ci mette un fluidac normale Dovrebbe collegarsi lo stesso No Si si collega No 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 Metti l'output Metti l'output Che cazzo Input ok Ok scherzavo Input Denso No Così non si decide Facciamo Vacuum Che tipo Devo andare a vedere Che cazzo vuol dire Verete che già non mi scordo Non mi ricordo più Cazzo Ma questo è già pieno Quindi che cazzo lo faccio fare Aspetta Cosa sta consumando Questo per riempire questo Si Ok Con calma Devo solo andare sulla wiki Vai sulla wiki Surreal Ah eccolo Qua sopra Questa testa di cazzo Scusa Piccolo Misfatto Ok ok Ho dato un'altra occhiata Alla wiki Anzi la prima occhiata Oggi Alla wiki E mi sembra aver capito Anzi Dovei aver confermato Quello che vi avevo già detto In passato Che il rosso Vuol dire che Non preferisce Questa corsia E il verde Che preferisce Questa corsia In realtà Passate per tenerne uno Però abbiamo verificato Come tenerne uno Non è che funzioni Moltissimo E proviamo con due Cazzo Che è anche notte Fammi dormire Surreal power Comunque Devo già parlato In vlog Se non sbaglio Ma ne farò un altro Poco prima delle fiere Sarò presente Sia al games week Che al Luca comics Al games week Sarò Con dv move Quindi allo stand dv move Che ancora non so dov'è Ma Dettagli Importante che sarà là E È lo che come Sarò in giro Praticamente Qua devo fare qualcosa Ehm Quindi sì Venite Finitemi a trovare Che mi fa solo piacere Pum Putato Treci putato Dovrebbero arrivare Maggior parte Qui Mi è arrivata una Ma mi sa che è vecchia Mmm Oh dai Dovrebbe essere arrivato Pucca trae Una potato 16 potato Come Ma io ti ho domandato 13 Mi sa che il fatto Che qua ci sia il verde Non gli piace Apriamo a tenere Sul rosso Per ora E poi vediamo Come la va Quello che so È che ho bisogno Di Un altro item d'act L'item d'act Se non sbaglio È copper e led Quindi sono O tin Sa che è tin e led Potrei sbagliarmi ma Sa che è tin e led Esatto Tin e led Mamma mia La memoria La memoria Ok va qua sotto E facciamo Così Qua facciamo output E qua Input Sì sì Gliela data Gliela data Perfetto Ora Bisogna creare un altro paio Di Energysell Ora lo so Non l'ho spiegato Però so che esistono Energysell Anche più Anzi meno costose Di quelle che ho creato io Ad esempio c'è la Lelston Energysell Che è una cazzatina Contiene però Solo 400.000 unità E il buffer interno Del culinary Generator Sorpassa i 400 Arriviamo a 500.000 E capite che non è Per niente comodo Quindi se dobbiamo fare Un contenitore di energia Deve essere Per forza Uno bello capiente Allora vediamo le alternative C'è Hardened Energysell Che c'è 2 milioni E Anche questo è piuttosto semplice E poi c'è la Lelston Energysell C'è anche questa La 5 milioni Però al momento Non abbiamo La possibilità di fare Lenderium Ingot Quindi Rifiliamo sul Redstone Energy Coso qua Redstone Energysell Allora Abbiamo Questo come si crafta Ah ce l'ho diamante Oh cazzo Solo uno Questo ha bisogno di diamanti Mi sa di no La cazzatina sta roba E contiene 2 milioni Potremmo fare un paio di queste Per arrangiarci Invar Invarcelò Se non sbaglio Eh Voglia E allora faremo così Al momento È più conveniente Solo il fatto che non ho diamanti È Creare Quella normale Cioè Normale Il secondo livello Diciamo E quindi faremo così Fami posare solamente qua Tutte Ste robette Le cazzatina qua Fami posare anche I strumenti Ti spiace C'è un morto di carbone Di cazzarmi Il carbone Ho una cesta Per il carbone La cesta Quella hai aperta Mi raccomando Se no non vale Vabbè Fammi creare una cesta Per il carbone Oh no no Forse mi conviene Creare Più che una cesta Se trovo uno slab Un barile Per il carbone C'ho qualche barile Un utilizzato qua No Anche se quello del diamante Probabilmente resterà Un utilizzato a breve Cazzo Vuoi dimmi che non ho uno slab Ah Eccolo qua E poi Ci facciamo Un barilozzo Di brumbo mele Ah cazzo Devo usare quello normale Ce l'ho Sì Bello Ok Tutututum E metti sto slab qua Oakwood Ehm Vabbè Lo mettiamo qua Per il momento Scusè E ci teniamo solo uno stack Per nostra comodità Tutto il legno Non ci serve Lo posiamo Lo posiamo Qui Più o meno Oh mamma mia Che casino Poi c'è tutto Perfetto Allora abbiamo detto Alternate Per farà La mia Cientina Della Estone Quindi sono Tre Copper Aspetta Quello non è Oro Cos'era Electrum Ok Non so se c'è Qualche Pezzettore Electrum Che mi ha avanzato Eh no Eh no E l'electrum Ah boia Si fa con Dov'è Electrum Si fa con Tutto Tutto Silver E gold Toon Silver qual'è Questo Proverizziamo sti due Mettiamoci qualcosa qua dentro Un momento Il trucco ve l'ho già insegnato Time fast and furious Ok Ok Lo mettiamo assieme Così ci danno Le due nostre polverine E perfetto E così ci da Quello Poi abbiamo bisogno Tre copper Un blocco Di quello Quattro led Troppo per Nove pezzi Di questo Questo Di redstone Ah va bene led Qualsiasi tipo di led E glass Dovrei già averne Quindi è così Aspetta Devo fare prima Il blocco Giustamente L'ho dimenticato Ok Questo Mettiamo così Questo Mettiamo così Come al solito Al contrario Ah no È led Sorry L'abbiamo messo anche giusto Madonna Mi siamo in cazzo Guarda Eccolo qua E Vabbè Usiamo questa qua Di sopra Bisogno di questo Tre copper E Ora dovrà avere L'invar Anzi L'electromingot Per fare Il coil Boom 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 Ecco qua E abbiamo un Leston energy cell Ma questa È quella scema Per fare questo Abbiamo semplicemente Bisogna di 4 Invar Oppure No no Sempre Invar Boh Ci sono due ricette Diverse Sai perché 20052 No L'idea è lo stesso Scusa Perchè dovrei Consumare più roba Per niente Ah no Questa è energy cell frame Questa è solo Energy cell Quindi Ci risparmio I tre copper La roba Sì è una ricetta unica Insomma Vabbè Noi ci arrangiamo Con i 4 Invar Che siamo Belli che ha posto Allora Potremmo metterla qui Ma Considerando Che probabilmente Ora Andrò ad utilizzare Questi macchinari Ma Qualcun Che consumano Tanta energia Forse 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 Non ne ho neanche bisogno Che sono i miei dubbi Insomma Vorrei farmene un'altra Quasi quasi E me la faccio Off camera Z Esattamente Anche se per ora Tutta sta energia Che c'è in più Cioè Non è che mi serve A qualcosa La tengo lì e basta Quindi Mettiamo qua E lei assorbe Giustamente Quindi il culinary generator Ora La riempie Di cattiveria Perché La riempie Di cattiveria Fidatemi Sono 4 buffer interni Dal culinary generator Per riempire L'hardener Energy cell Poi la cosa positiva È che l'hardener Energy cell È una cazzatella Da fare Quindi quello Ok Ora Non so Se esiste Un modo Per Se qua è tutto pieno Andare Magari a una cesta Di buffer Eh no Mi sa che si può fare Con Con le pipe Per l'appunto Se io metto la pipe Tipo rossa Dovrebbe portarmela A tipo A una cesta Di buffer Guarda ho come una cesta Per provare Un item luck L'item luck ce l'ho E la cesta anche Madonna Ma che pro Tipo Io faccio così Devo essere pronto A cambiare subito Vada qua che manda via Tutte le robe Così mi incassano Incazzabesti Aspetta che non capisco più Incazzalo qua Ok C'è il rosso Quindi Dovrebbe essere La meno preferita Però La Si è tolto Il carbone Sta partendo Dovrebbe arrivare qua Ok Quindi ho creato Una cesta di buffer Effettivamente Ma è questo che Dà energia Qua Tutto Vero Si Ma questo Mi sa che richiede Un cazzo D'energia 16.000 16.000 Non è un cazzo Manco il planter Quanto richiede il planter 8.000 Pfff Mamma va Fan ghoul Bisogna di qualcosa Che richieda Tanta energia Ma Il prossimo episodio Facciamo una roba Che richiede più energia In tutto il mondo Forever Apposta Perché noi può Comunque mi sa che Off camera Produrrò Altri due o tre Di questi Hardened Così Che hanno Due milioni Lo so La resta Un'energia Selle Ne ha dieci milioni Quindi è come fare Cinque di quelle Però non utilizzo Nessun diamante Dato che ho diamante Nel momento C'è proprio Zero C'è uno Ok Però proprio Zero Nel senso Che ne uso Uno E poi ne sto a zero Mi sa che Non è tanto comodo No Comunque Io vi ringrazio Per la Oh cazzo Per la visione Vi ricordo di scrivervi Se ancora non l'avete fatto Va che mi butto nell'acqua E se non ce ne metto Mi butto Mi butto Se è andato Ciao Te lo dirò a tutti E se non ce ne metto E se non ce ne metto